a segno con il primo, il libero della parità e attenzione al secondo che può valere il sorpasso Reggiana a realizzare, rimanta Scauchenas e ora Scandone contro Reggiana e il Palabiggi 45 secondi, nel possesso 18, Gioragland paleggio alto, Marti Lunen, si butta dentro torna fuori, davvero alto, verso Gioragland 8 secondi, dentro Ragland, la stoppata di Riccardo Cervi ed è palleggio per la Grissin Bonn, Alino che prova a difendere credo per i primi secondi e poi valuterà che stoppata di Cervi su Ragland la risposta dell'ex nel momento decisivo della valle tentativo di recupero di Logan, corta, Alino che può attaccare con il meno uno, David Logan, la rimonta di Scauchenas ancora fuori per Marcus Green che deve tirare tira, Marti Lunen, assegno, assegno Marti Lunen Avellino è in semifinale, scudetto come un anno fa ancora una volta, una soluzione utile trovata all'ultimo secondo, incredibile bruciata la retina da Marti Lunen 79-80, Avellino vince gara 3 in un modo incredibile la carica del pubblico della Scandone, anche la forza di Sacripanti Green poteva tirare, non l'ha fatto, ha ceduto la sfera a Marti Lunen il rilascio, che vale la semifinale scudetto che vale la semifinale scudetto